Dopo l'assessore dei lavori pubblici della Regione di Puglia Gianni Giannini, anche il consigliere regionale Paolo Campo con il presidente della provincia di Foggia Francesco Miglio si sono recati sui Monti Dauni per verificare la situazione della rete viaria. Invitati dalla candidata sindaco del comune di Roseto Valfortore Lucilla Parisi, entrambi hanno confermato che i primi fondi della programmazione comunitaria sono disponibili. Paolo Campo detta le condizioni. Sono occasioni che non si riproporranno e io credo che vadano utilizzate non per fare piccoli tratti, le stradine, c'è bisogno di una programmazione, oggi la presenza del presidente Miglio è significativa, che abbia un respiro più ampio e che quei soldi vengano utilizzati per 4-5 grosse arterie per una viabilità seria, non per interventi a pioggia, spot, come è capitato magari in passato, perché di interventi, negli ultimi 30 anni ne abbiamo visti tantissimi, si fanno, dopo due anni alla prima pioggia siamo punte da capo, ci vogliono interventi strutturali e c'è bisogno che il territorio questa volta, perché le risorse ci sono, si assuma le sue responsabilità. Emilio mette a tacere gli scettici. C'è una possibilità da utilizzare al meglio, un'opportunità immediata di 15 milioni di euro che rimangono dai POR, i sindaci si sono visti e hanno indicato delle priorità, nel prossimo consiglio provinciale porteremo a ratifica questo programma, dopodiché bisognerà avviare tutto l'iter, tutte le procedure che io mi auguro possano essere al massimo solleciti. Poi ci sarà un'altra partita di 30 milioni di euro per patto per la Puglia e anche lì credo che dobbiamo attrezzarci per dotare il territorio di progetti esecutivi che possano essere immediatamente cantirabili, chiesto naturalmente in tempi compatibili con quelle che sono le rivendicazioni di questi concittadini che da tempo chiedono un'attenzione che non hanno mai avuto a sufficienza.